Una cartica che io guardo a donde te escrivi Que te sueño e que te quiero tanto Que se al rato sta in mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Quando vado per editarlo Il file è danneggiato Quindi non ho più il file Quindi devo rigirarlo Probabilmente unirò qualche altro pezzettino di video Se trovo qualcos'altro Sennò è questo quello che faccio vedere Spero di aver ritrovato tutto Perché l'ho girato un po' di giorni fa E avevo messo via tutto Tra l'altro ho tolto anche alcune confezioni E sono riuscita a recuperarle Allora alcune no purtroppo Vi faccio vedere questo set di colle Io adesso ne ho prese 4 Erano 8 colle Queste qua prese sempre da Eurospin Italia E sono dell'Osama Erano 8 colle Se non sbaglio 3,99 euro E le prendo perché Per lo Scrabble King Per il Bullet Per qualsiasi cosa Sono sempre strautili le colle Quindi non ne posso fare a meno Poi una cosa che non c'entra molto Però volevo farvela troppo vedere Ho preso questo piccolo salvadanaio Da tavolo, da scrivania Come volete voi Più che altro perché Hello Beautiful Era bellissimo E non so fa molto scena Cioè guardate che carino Troppo bello Quindi l'ho voluto prendere Magari per metterci i vostri risparmi Poi ho comprato Poi ho comprato questa gomma matita della Pelican Questa era proprio così L'ho presa sfusa Sono quelle gomme matite apposta In realtà si usavano in tecnica o artistica Per chi era del settore Lo usavo lo scientifico Molto utile E l'ho presa E l'ho presa soprattutto per cancellare di precisione su alcuni progetti che sto facendo E anche sul bullet Perché no O sui vostri disini di tecnico Qualsiasi altra cosa Poi ho preso due bianchetti Che purtroppo non ho la confezione Perché li avevo già tirati fuori Uno è questo qua Della Osama Ed è quello classico a penna Ok E l'altro è questo qui a pennellino Della Carioca Semplice Quando magari devo cancellare qualcosa di un po' più Una superficie più ampia Non vado con questo Vado più con questo Perché magari riesco a tenerlo piatto Rispetto a questo che rimane sempre un po' di spessore Poi Da un cinese Ho preso questa matita Con la mina Questa l'avevo già aperta Ho recuperato la scatola ragazzi Allora Questa qui è della prima Ha una mina da 0,7 mm La poi ve lo faccio vedere Questa l'ho pagata 1,90 euro Di tutto Non mi ricordo i prezzi ovviamente Perché ho buttato via la roba C'ha il supportamine E questa è la matita Quella meccanica Molto comoda Soprattutto perché Oddio Degli astucci che si rovinano Si sporcano Magari con un interno bianco Queste sono comode Perché a differenza Delle classiche matite Non vanno a sporcare l'astuccio E ne volevo una Al proposito Dopo vedrete Poi sempre Dell'Osama Prese da Eurospin Ho preso queste penne Questo set di penne qua Che ho ricomposto Perché anche questo qui è aperto E le avevo già smerciate E sono penne a sfera Super scorrevoli Punta da un millimetro Qui dice che è una penna a sfera Con inchiostro OBG Della composizione innovativa OBG vuol dire Oil buys gel Un connume ultimale Tra scorrevolezza Gel e viscosità Della penna a sfera Scrittura scorrevole E precisa E sono queste penne qua Oddio Non escono tutte Perché ovviamente Hai stracassato la scatola Sono semplici Hanno l'impugnatura morbida Qua E la punta è questa Ovviamente qua c'è Il salva freschezza Perché non è Che le ho aperte tutte Ne avevo aperte solo due Poi sempre A proposito di penne Ho preso questa Confezione qua Sempre da Eurospin Italia 3,99 euro Credo Queste le ho prese per casa Nel senso che A me urta Quando toccano le mie penne Quando toccano le mie Quasi in generale Ma mi urta Quando vedo le penne belle Che vengono prese Usate per cacate Ad esempio Lì vedo un'altra Delle mie penne Vorrei uccidere qualcuno Perché io ho messo delle penne A posto Da utilizzare Perché va a prendere le altre Ok Quindi queste le ho prese Per smacciarle Per questo Perché è una cosa Che mi urta Che vengono usate Le mie penne E Poi Sempre da Eurospin Vi faccio vedere i quaderni Mi stacco un po' Ho preso lui Perché Un altro quaderno Non ha anelli Li uso parecchio Ma lo prendo Perché c'è la Groghi Ovviamente non è Il mio cane Nel senso che il mio cane È un bulldog francese Ma è marrone Però lei era troppo bella Io ho preso di lei Perché lei è lei Quindi nera E della pigna E della monocromo E niente Nero così Poi ho preso Questa cartelletta Sempre della monocromo Rossa Di quelle spesse Perché ho preso Questa cartelletta Perché mi servirà Per raccogliere Diverse cose Riguardanti Un progetto Molto importante Di conseguenza Me ne serviva una Abbastanza capiente In modo da non Disperdermi tutto In giro per la casa E questa Mi è sembrata ottima L'ho presa rossa Perché è rimasto Solo il colore rosso Sono andata praticamente Aruba È sempre della monocromo Ed è sempre della pigna Come quaderni Ho preso Due quaderni Della monocromo No scusate Non ne ho presi tre A quanto pare Va bene Non ho trovato Allora ho preso Questo qui Arancioni Sono tutti e tre A quadretti E sono tutti e tre Di quelli appunto Con i buchi Che potete inserire Nei quadernoni Arancioni Monocromo Verde acqua Verde acqua E questo qui In color salmone So che lì sembra Un po' più rosso Ma in color salmone Le ho presi Tutte tre Perché mi servono Appunto Da utilizzare Con i quadernoni Ad anelli Questi se non sbaglio Costavano Un euro e quarantanove Poi Come penne Ancora Allora Come vi faccio Vedere questo Ho preso Questo Aggeggio Praticamente È uno Dispenser Da scrivania Con vari scomparti Per metterci Tutte le cosine E anche il modo Per caricare il cellulare Praticamente Sono tutti Dei quadrotti Che tu puoi spostare Impilare E formare Le forme che vuoi Contenutori Che vuoi E puoi anche Usarlo come porta cellulare Adesso Ve lo faccio vedere Perché è qua davanti a me Eccolo qua Ha la sua cosa Che è attaccata al computer Per caricare il cellulare Vedete che ha l'entrata usb Vedete come è fatto Però tu puoi staccare I tuoi cubotti E per dire Impilarli Vedete È molto carino E l'ho trovato Molto utile Anche per fare Tipo le minuterie Della scrivania Che so I ciappini Tutte quelle cose lì E l'ho voluto prendere Poi continuiamo Invece Con il reparto Penne Pennine Pennette Pennotte Ho preso Della fabbrica No scusatemi Della standler Queste due gomme Queste secondo me Sono le migliori gomme Che ci siano in mercato Sono quelle grandi Della standler Bianche Io le ho prese Soprattutto per i bullet journal Perché Chi fa bullet Di solito Si fa tutto Stesura in matita E poi si va In bella Queste cancellano Veramente molto bene Non rovinano il foglio E le devo sempre avere In casa Tra l'altro Sono costate una cosa Come tipo 1,99 euro 2,99 euro Poi Della serie Delle pende Non ci stanchiamo mai Ho preso Le vick Le vick Sono le mie pende Preferite per scrivere A lunga stesura Nel senso che Quando devo scrivere Tanto Loro Blu Le avevo finite Per il discorso Che vi ho fatto prima Ma che qui qualcuno Usa le mie penne E quindi Le ho dovute riprendere Costate soltanto 1,99 euro E sono 10 penne Le vick Classiche Le original Poi Sempre dello sano Ho voluto prendere Queste altre penne Qua Simili a quell'altra Ma queste sono a scatto E anche queste Sono super scorrevoli E hanno la stessa Base di questo Cioè La stessa Identica cosa E anche queste Hanno punte da un millimetro Però queste sono Verdi, rossi, neri e blu E volevo provare anche queste Poi Sempre della Stedler Ho preso un'altra matita Quelle Insomma Queste qua Meccaniche Questa l'ho presa Arancione Anche questa Ha le portamine Questa qua però È 0,5 mm Questa lì Era 0,7 mm Le punte Queste sono un po' Più fini E mi servono sempre Un po' Per il bullet Queste cose E volevo E volevo chiudere Questa tranche Con loro So Che Dice Ma quanti evidenziatori Ho preso Perché anche Nello scorso video C'è il mio cane Che abbaglia L'avete visto Però ragazzi Non potevo lasciarlo lì È l'imitazione De quelli Della Stabilo Allo suo sostegno Ve lo faccio vedere E sono sia pastello Sempre da Eurostin Sono da Eurostin Allo costo di 9,90 euro Sia pastello Che fluo Guardate che belli E questo lo prego Proprio per metterlo E tenerlo di bellezza Quindi Niente ragazzi Mi piace tantissimo Spero che insomma Questo video vi sia piaciuto Non so se li legherò Un altro pezzo di video Solo per te Piccolo video Che unisco A quello precedente Con dei acquistini Che ho fatto da cinese Sono appena tornata Dal vaccino Vaccino fatto Fatto moderna So abbastanza bene Se ho un po' di nausea Un po' di una di testa Ma va bene Andiamo A vedere Cosa ho preso Allora Ho preso questo Che è l'inchiostro Nero Per i timbri L'ho preso Perché ho tantissimi Timbri Clear Stamp Sostanzialmente E il nero Mi era finito Userò questo qui L'ho pagato solo 1,99 euro Questo è molto utile A creare stampo O comunque Stampi per fare Decorazioni sui vostri Diari Sui vostri Quaderni Sui vostri Bullet Quello che va Io l'ho preso Soprattutto per il bullet Qui dietro c'è un casino C'è tutta la roba Che ho preso Poi ho preso Questo marcatore Che è praticamente Un indelebile Per qualsiasi superficie C'è scritto Che va bene Sui vinili Sulla plastica Sulla ceramica Sul vetro L'ho preso Soprattutto per il vetro E si tratta Di un marcatore Color oro Metal ink Con la punta Da 2 mm Effetto metallico Questo l'ho preso Perché vorrei scrivere Su certi materiali Mi serviva qualcosa Del genere Vediamo Prendiamo l'altro Che ho preso Che non ho preso Tantissime Allora Questo non c'entra niente Però ve li faccio vedere Ho preso Le chiusure Per gli orecchini Sapete che sono Anche creativa Una cosa molto carina Che ho trovato Sono questi Fermapagina O segnapagina Magnetici Sono davvero carinissimi E c'erano questi qui Con tipo L'orsetto E il leoncino Pagati soltanto 99 centesimi Se non erro E poi questi qui Con le scritte Motivazionali Say what to drink beer Say what to drink Wine Vino Non che a me Mi interessi Però Sono molto carine Mi piacciono Soprattutto per il bullet O per il vostro diario Per tenere la pagina O per i vostri libri Per tenere la pagina Di quello che dovete studiare E quant'altro Poi ho preso Questo set di penne E sono le Ballpoint pen 12 penne Top quality Non lo so Sono 12 penne E sono Con la punta Da un millimetro Simile al tratto penne Se non ho capito male Adesso andiamo a vedere insieme Se le Riusciamo ad aprire Così le vediamo Subito insieme Queste Le ho pagate Pensate Soltanto 1,99 euro Cioè Praticamente niente Poi ho preso Anche Un casino Di Gomaeva Che mi serve per fare Gli elastici Per le bimbe Cerchiettini Per le bimbe Allora La penna Si presenta così In realtà Non c'entra un cacchio Col tratto penne E neanche Col disegno Che c'era qua Allora Vedete Qui sembra Quasi Tratto penne Dalla punta Che c'è disegnata In realtà No Quindi Adesso Vi faccio vedere Si tratta Di una penna E c'è una zanzara Di una penna Normalissima Ok Adesso Andiamo anche A provare A provo Qua dietro Questa è la fucsia Scrive Fucsia Però Non è assolutamente Una È una penna normale C'erano anche Quelle simile Al 88 point Di Dalla stabile Però Ho detto No Prendo queste Sono penne normali Va bene Poi ho preso Questa succino Del quale Non avevo assolutamente Bisogno Ma mi piaceva Tantissimo E così Rilassante Colori Pastello Se sta Prendo sta zanzara Gli faccio fare Una fine All'ultimente E l'ho voluto Prendere Mi pare Solo 1,99 euro Oh C'è un filo Ce n'è un altro Non c'è Probabilmente Ed è piccolino Comodo Da tenere Tipo In un borsetta O altro Ed è davvero Davvero carino Ragazzi Guardate Ditemi se non è Super kawaii Super No kawaii No Però Arcobalinoso Ecco L'ho preso Quelli più Mette E niente Ragazzi Questo è davvero tutto Non comprerò più niente Per il back to school Vi faccio vedere Che ho preso anche Un elastico Di quelli Fatti così Molto carino Rosso Che buona Palline Sta bene E niente Pezzettina di video Back to school Non ce la posso fare Il titolo di questo video Non ce la posso fare Continuo a comprare Comunque Bando alle ciance Eurospin Io ero alla lavoro Poi a un certo punto Mi vado a buttare Delle cose E passo davanti Di stand nuovi Che hanno messo Di cancelleria Cartoleria Cosa per la scuola Potevo io Non prenderla Anche no Perché erano bellissime Quindi Ve le faccio subito vedere Tiro fuori tutti Dal sacchetto Una cosa Non è di cancelleria Però la userò Per quello Perché già E poi nel futuro Per qualcos'altro Comunque Allora Iniziamo con La cosa che non è di Ah no Lasciamo per ultima Allora Ho preso Queste Allora Questa collezione Era arrivata anche Sarà stato febbraio Marzo Insomma Non mi ricordo Ed è ritornata Infatti Io avevo già preso Altre cose Quella volta lì Però io non mi ho fatto Un video back to school Perché Non mi pareva proprio il caso Comunque Ho preso Queste due confezioni Di ciapine Come le chiamo io E le ho prese Verde acqua E rosa Sono entrambi E questa linea Era tutta pastello Ok Ed le ho prese Perché le voglio mettere In questo organizer Qui Perché voglio fare Una cosa un po' carina Con le cose pastello E vabbè Questi ragazzi Sono sempre utili Sono costate Soltanto 99 centesimi E ce ne sono All'interno Quale chiama Clips E sono Dello Sama Sempre Non c'è scritto Quante ce ne sono All'interno Confezione Reciclabile Non c'è scritto Però penso Siano 100 pezzi Molto Molto carine Poi Poi sempre Su quell'onda Ho preso Loro Allora I colori Di questa Collezione Diciamo Nella rosa Il verde Il giallino Tipo polenta E Il blu Azzurro blu Io ho preso Queste qua Rosa Sempre da mettere Qui Molto Così Molto carine Così Pastellose Anche perché Comunque sono tante Non ho voluto Prenderle Di due colori Perché Queste ne ho Non finire Però le tengo qui Le utilizzerò Per il bullet E sono Praticamente Quei fermai A pinza Vediamo se ne ho No Qua non ne ho Una portata Di mano diverso Vabbè Vi faccio vedere Queste tutto Vi devo tenere fuori Sono queste qua Fatte così Che voi aprite Se riesco ad aprirlo Perché con queste unghie corte Non riesco a fare niente Ok Così E fermate il foglio In questo modo Così Tac 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 E sono molto carine Rosa Pastel E queste qui E le ho pagate Queste 1,99 Credo Poi Sempre su rosa Ho preso Il correttore a nastro Che è proprio questo Che mi manca C'è quella penna C'è quella penna Questo mi manca E qua dentro Lo vedo da Dio In questo suddivisorio Vediamolo Un attimo insieme Allora C'è scritto Quanti metri sono Non c'è scritto Qua quanti metri sono Correttore a nastro Blah 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 Non c'è scritto Però Penso siano 10 metri Non di più Da quantitativo di rollino Qua sotto Vedete che carino In trasparenza Rosa Molto molto carino Stai da Dio Poi Lo giro così Che si aprirono Così 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 Poi Sempre di quella linea lì Ho preso queste forbici Adesso vi faccio vedere La linea che era uscita L'anno A dicembre Gennaio Febbraio Non ricordo Vedete era così Sempre color pastello Però questo È un verde più scuro Quello che c'è adesso Però Aveva tutta questa stampa Fatta così Adesso sono uscite lisce E le ho volute prendere gialle Perché queste qua Le ho usato tantissimo Per creare queste forbici Quindi non mi bastano mai Queste forbici E le forbici Se non erro Sono costate 1,99 euro E il giallo Era questo qui È un giallo Comunque pastello Molto carino Queste forbici Sono giganti Forse Sembrano più grosse Poco poco più grandi Ma pochissime Comunque Queste forbici Qua servono sempre Pagate 1,99 Appunto Poi Sempre della stessa linea Ho preso Questi qua Io li avevo già presi In rosa E in verde acqua Ho ripreso il rosa Perché mi pare Un rosa un po' più scuro Io adesso non ho Sottumano quelli Devono essere là Nella libreria Ma non mi ricordo Dove li versi Comunque Sono questi qua Vedete l'azzurra Questi qui E sono fantastici Ragazzi Questi qua pagati Solo 1,99 euro E hanno tantissimi post-it Molto carini Io questi li vorrei utilizzare Anche per il bullet E li ho voluti prendere entrambi C'è scritto Fogliate adesivi Riposizionabili Forme assortite 25 foglietti per forma 25 foglietti per blocchetto Ecco ragazzi Questi sono E sono carini anche Che si possono mettere Nei quadernoni Annelli Poi Poi ho preso Questo l'ho pagato Questo l'ho pagato Un pochino Per questo costato 2,99 euro Non è un pochino Però rispetto al resto È della Favini È molto bello E mi serve un quaderno così Stop Non dico altro Ultima cosa che ho preso Che non è necessariamente In realtà È per il back to school Perché è Una lunchbox Di Frozen Sono pessima Ok Una lunchbox Di Frozen È bellissima Io non l'ho presa Ovviamente come lunchbox Ma la utilizzerò Per tenerci le cose Di cancelleria Qua A portata Di mano È davvero carina Questa qua È della Disney C'erano anche Quelle dei supereroi E c'erano le borracce Le tazze C'erano appunto queste Per la scuola E back to school Praticamente per metterci La melendina Per andare a scuola I bimbi In futuro lo userò Magari prima Questa è costata 2,99 euro E la volevo appunto Tenere qua Sulla scrivania Con alcune cose Di cancelleria Utili Che mi possono servire A portata di mano E adesso È veramente tutto Questo è il mio Secondo video Back to school Spero che vi sia piaciuto Fatemi sapere Se vi è piaciuto Condividete Spolliciate E presto arriveranno Tanti video Inerenti Comunque Al bullet journal Perché comunque È una cosa Che mi rilassa Non tanto L'ho portata Nel canale Perché magari Ho visto che Non è che ha dato Tante Non piaceva a tutti Però le voglio comunque Portare Perché voglio portare Quello che mi piace Spero che il video Vi è piaciuto Un bacione Ciao ragazze Grazie a tutti Grazie a tutti